Ciao, sono Renato Tarquini, risiedo a Folignano in provincia di Ascoli Piceno. Anche io ho deciso di aderire all'esposto epocale in quanto ritengo da libero cittadino di uno Stato democratico di avere il diritto di conoscere la verità sui motivi per cui siamo stati sottoposti a regole che di fatto ci hanno schiavizzato, privandoci della nostra libertà e soprattutto della nostra dignità. Per questo motivo ho deciso di sottoscrivere l'esposto chiedendo alla magistratura di fare chiarezza. Se anche tu, come me e tanti altri, ritieni di voler sapere avendone il diritto, aderisci a questo esposto dal sito www.espostoepocale.it. Ti auguro una felice giornata. Ciao.